Pachi, hai visto le notizie di oggi? Vietate visite agli amici solo ai parenti ma brevi, ci sono ancora morti. Per evitare assembramenti bici e monopattini, che dici, impariamo? Bene, ottimo. Poi, vediamo cosa dice, pagina dopo, ecco i paesi poveri sempre più soli, i contagi continuano a pachi? Ah, eccoci qua. Beh, insomma, pachi, qui mi sa che i problemi non si risolvono. Non so, come faremo? Ma Gesù non fa niente? Gesù non fa niente? Pachi, com'è che Gesù non fa niente? Pachi, guarda lì vicino a te. Eh, guarda Gesù, guarda cosa hanno fatto i nostri inquinamenti quando abbiamo contaminato tutto e tutti con il virus dei nostri peccati e delle nostre cattiverie, abbiamo fatto morire gli altri, le nostre anime. Ecco, guarda bene, guarda cosa hanno fatto i nostri peccati. E Gesù, nel silenzio, nella preghiera, nell'amore, ha offerto tutto al suo padre nei cieli per salvarci dall'inferno e per portarci in paradiso. Vedi, pachi, allora lui può fare tutto perché è il Signore, ma noi non lo ascoltiamo. Lui è il pastore, è la porta dove le pecore possono entrare al sicuro e salvarsi, ma noi apriamo le porte di tutti i lupi e la porta di Gesù non la vogliamo aprire. Anzi, stiamo aprendo tutte le porte del lavoro, dello sport, del divertimento e la porta di Gesù la lasciamo chiusa. Gesù lo mettiamo all'ultimo posto. Cioè, a questo punto, come fa ad aiutarci? E io posso fare qualcosa? Pachi, una domanda più bella non la potevi fare, ma certo che puoi fare qualcosa, puoi fare tanto, puoi consolare Gesù, puoi ad esempio evitando i peccati che riesci, facendo qualche rinuncia, non lamentarti, oppure che so io, vediamo, ad esempio facendo qualche atto d'amore, oppure posso chiedere l'aiuto della mamma di Gesù? Pachi, ma come ti è venuta questa idea? Ma è stupendo! Sei grande Pachi e vai! Arrivano i nostri! Arrivano i nostri! E chi sono i nostri? Ah già! Gesù e Maria! Effettivamente, se non avessimo loro Gesù e Maria! Davvero! Bravo Pachi, ma sei proprio forte, eh! Dammi il 5! Bravo! Così Pachi Pachi! E adesso aspettami un attimo che vado a prendere qualche cosa! Posso avere anch'io il pallottoliere? Il pallottoliere! Questo è il suo pallottoliere, lui chiama così la corona del rosario, ma certo Pachi, guarda questa è tutta tua, eh! E adesso salutiamo i nostri amici, gli diamo la benedizione, eh! Il Signore sia con voi, per intercessione dalla Beata Vergine Maria, che di San Luisi Maria da Monfort, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo! Amen! Buona domenica! Ciao, ciao!